Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Sun Seasons Oggi siamo finalmente in un nuovo gioco, che aspettavo da anni So se... Cominciamo Bello sceriffo Allora, parla di questo tipo Ok 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 Così 잠bella Grazie Ok Vai bevendo vino, no, questo, un succo, ok, ok, cominciamo, non lo voglio, cominciamo, combatto, no, niente, ah, ok, gale, un quad, un momento, l'oltrello, e un altro, solo, ok, dai, solo, grazie, ok, qua è un po' un po' più difficile, cioè possiamo fare, sputa, a caso, ok, 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 ok Adesso Non, 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 non. Ok Quasi fatto Qua è la bella cucina Ah c'è altre sopra Che roba Ok ragazzi Quindi Oltre a questa storia qua Degli zombie Che figata Abbiamo completato la base Eeeh Abbiamo completato Comunque Abbiamo sbloccato anche Nuovi personaggi Guardate 18 euro 22 su 20 Massimo Abbiamo sbloccato Questa cosa Così abbiamo 20 100% tecnicamente Qua è ancora più difficile raga Qui cominciamo Eh no E' un'altra solo camera E' sotto Ecco Deve esplodere Ok Finito Aia A parte Se non è notato C'è nessuno dentro Ok Ok E' un'altra solo E' un'altra solo E' un'altra solo non riesce male ok wow una cassa forte 10 euro 28 skeleton chiamiamoli così scusate raga scusate cavolo ok riprendi oh cavolo abbiamo vittato ok possiamo farcela raga solo che oh ce l'abbiamo fatta oh una radio abbiamo completato raga si abbiamo completato e scusate e scusate se non ho ancora fatto nessun video in questi giorni blocchiamo altre parti raga finalmente ci siamo riusciti ok ci nuovo ok io qui adesso ne ho 19 perfetto ok 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 e ok ci abbiamo tutto questo eh si però cavolo ok ah me li ha tolti ok ragazzi ok 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 adesso ragazzi adesso ragazzi dobbiamo fare un'altra cosa eh cioè andare qua tocca per esplorare scegliamo questo si abbiamo sbloccato altre cose raga entro ok stiamo entrando quale scegliete raga io scelgo un po' quella più facile ok uno spazzolino andiamo su questa che non c'è quasi nulla ok ok ah ok l'ho toccato male io non so se ce la faremo tutti bene bello ok vai ok 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 cavolo ah i zombie possono risuscitare cavolo l'ho mancato eh ma spara zio dai ah ecco cavolo cavolo c'è 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 ancora lui non morirà mai cavolo no cavolo no cavolo cavolo povero adesso li suscitano visto ci c'è 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 ragazzi ce la stiamo per fare ok ce la possiamo fare i zombie forse non... ecco un po abbiamo vinto E sono i 4 computer raga Abbiamo 11 moneta di scheletri E 32 stelline Chiamiamole stelline Quelle blu con la stella in mezzo Ragazzi mi piace un sacco questo gioco L'avevo appena scaricato E scrivetemi nei commenti se vi piace Ragazzi il gioco conclude qua Il video conclude qua Sperando che vi piaccia Mettete commento e Gli iscritti stanno aumentando E anche le like E anche le visualizzazioni Mettetevi un sacco di like Un sacco di visualizzazioni E un commento e mi piace Tantissimi like Tantissimi like Ho visto che abbiamo 7 like in un video Che possono anche aumentare Raga Però sto Cioè Abbiamo 11 iscritti adesso Abbiamo 11 iscritti Ah e scusate se adesso devo fare lo speciale 10 iscritti Ragazzi Vi voglio bene Ciao Vi lascio il link in descrizione E vi lascio il link in descrizione Ciao 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 Ciao